Buongiorno Alessandro Amato, TRM. Ogni stagione ha la sua storia, ogni allenatore ha le sue idee. Ci sono delle indicazioni tattiche differenti rispetto allo scorso campionato per quello che dovrai svolgere nel prossimo? Sì, sicuramente come hai detto tu, ogni allenatore ha le sue richieste, sono differenti. Il mister la prima cosa che ha chiesto in questo ritiro è soprattutto a livello caratteriale, quindi ha chiesto disponibilità, entusiasmo e propensione a fare quello che ci chiede. Poi le richieste tattiche, tecniche che chiederà, io come tutti gli altri saremo pronti ad eseguirle in campo. Scorso campionato, esordio straordinario, le prime giornate, poi l'andamento della squadra, dei problemi fisici. Quello è un evento straordinario o può essere un ranocchio per tutto un campionato? No, chiaramente l'esordio sicuramente è stato molto positivo, ma lavoro tutti i giorni purché non sia un evento straordinario, nel senso cerco di allenarmi affinché la partita sia sempre come gli esordi, insomma, per tutto il campionato, non solo per cinque partite. Ciao Filippo, Giovanni Di Marco, giornale di Sicilia, ti volevo chiedere della maglia, la numero 10. Come nasce questa scelta, se vi siete parlati con Checco e che peso gli dai? No, allora, sapevo che Checco voleva cambiare il numero perché aveva portato due anni e voleva cambiarlo, allora a me è un numero che è sempre piaciuto e lui me l'ha lasciata molto gentilmente, io ho deciso di prenderla perché è un numero che mi piace e che ho sempre voluto indossare, insomma, e indossarlo con questa maglia sarà ancora più speciale. Però non l'hai mai indossata nella tua carriera? No, infatti, avrei sempre voluto indossarla, ma sono contento che sia capitato qua la prima volta. A me viene in mente un 10 del Palermo, non so se tu hai avuto modo di vederlo perché a qualche anno Cappioli, che era una mezzala di inserimento molto brava, ha fatto un super campionato in C, ha portato il Palermo in B. Non so se tu, indossando quella 10, pensi a lui o a chi pensi eventualmente, visto che sei molto più giovane, insomma. Il primo ricordo che ho del 10 della maglia del Palermo è sicuramente piccolo, ma io l'ho presa perché, appunto, come ho detto, è un numero che mi piace e che voglio rendere mio, insomma, senza chiaramente mancare di rispetto a nessuno e senza fare nessun paragone. È un numero sicuramente particolare, però alla fine non è tanto il numero che conta, ma è quello che si fa in campo, insomma. Ma per quelle che sono le tue caratteristiche, il 10 a cui si ispira la Nokia chi è? Sinceramente non lo so, cioè, nel senso, un giocatore in particolare non lo so, sicuramente il 10 nel calcio è stato un numero un po' speciale, insomma. Allora ho deciso di prendermi questa responsabilità. Il modulo si lavora sul 4-3-3, volevo chiederti anche se tu ovviamente l'hai fatto l'anno scorso con Corini, poi è cambiato qualcosa con Mignani, però da questi primi giorni è un sistema di gioco con geniale le tue caratteristiche, più di altri, ecco. Sì, sì, assolutamente. È un ruolo, sicuramente la mezzala, che mi piace molto fare, perché ho possibilità sicuramente di spingermi in avanti, ma allo stesso tempo compiti, diciamo, a tutto campo, quindi sia nella fase difensiva che offensiva. Quindi sì, sicuramente è un ruolo, soprattutto, che mi piace molto. Ciao, Roberto Parisi, Stadionews. Allora, la maglia, l'affetto dei tifosi, sei uno dei perni di questa squadra. Allora ti voglio chiedere, sei pronto a diventare uno dei leader tecnici e non del Palermo? Sì, assolutamente. Il mio obiettivo è quello. Come ho detto prima, lavoro ogni giorno per diventare proprio questo. Io voglio sicuramente dare una grande mano a questa squadra e a questa società per raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissati. Ciao Filippo, Francesco Camuca di Sportisi, ritornando alla 10 e tornando a riferimento a Miccoli. Tu sei perugino, Miccoli in Umbria ha fatto grandi cose, a Perugia e alla Ternana. Sogni di ripercorrere in parte le orme di Miccoli, visto che sei stato tu a nominarlo? Sicuramente, nel senso è uno dei più grandi giocatori che credo abbia indossato questa maglia, quindi sicuramente fare qualcosa anche di simile a quello che ha fatto lui, sicuramente sarebbe bello. Come ho detto, solo il lavoro e in campo potrebbero portare a questi risultati. Poi, a proposito invece dello spogliatoio, riferimento a Matteo Brunori, giocatore col quale hai legato fin da subito, fin dal tuo arrivo a gennaio. Come lo stai vedendo tu in campo, nello spogliatoio, il suo umore? Come la vedi? Lo vedo come tutti gli altri, si allena tutti i giorni come professionista, esemplare come tutto il resto della squadra. Ciao Filippo, Marco Genduso, tifosipreno.it. Ti chiedo, la campagna abbonamenti si è aperta negli scorsi giorni. Cosa ti senti dire al pubblico rosa-nero, un po' per caricarli forse ad abbonarsi? Grazie. Direi che vedendo anche la scorsa stagione, io sono arrivato a gennaio, ma comunque ho potuto vedere l'affetto di tutti i tifosi, non credo che abbiano bisogno di stimoli per abbonarsi. Quello che posso dire è che tutta la squadra è molto determinata in questo campionato per raggiungere grandi traguardi e che lotteremo su ogni pallone in tutte le partite. Filippo, quali sono gli errori da non commettere per trovare quella continuità che forse l'anno scorso è mancata? Gli errori da non commettere? Più che sugli errori mi concentrerò sulle cose da fare, nel senso di approcciare ogni partita con la concentrazione giusta e non ripetere appunto qualche errore come l'anno scorso, come le situazioni magari da vantaggio che ci hanno portato a perdere parecchi punti, sicuramente quello è un punto su cui ripartire, sulla concentrazione durante tutta la partita sicuramente quello forse. È un Palermo che cambierà perché arrivano giocatori e altri se ne andranno, però la base, lo zoccolo duro, come lo giudichi nel segno della continuità di quelli che sono stati non solo l'anno scorso ma anche quello precedente? Sì, credo che in tutte le squadre serva uno zoccolo duro come hai detto tu, adesso io non mi occupo di mercato ma sicuramente non so appunto chi arriverà e quanti ne arriveranno, ma quelli che ci sono sicuramente sono dei grandi giocatori e degli ottimi compagni perché c'è un grande gruppo e quindi sicuramente c'è da partire sicuramente dal loro barra noi. Ti volevo chiedere per chiudere le sensazioni in questi primi giorni di ritiro e poi se hai parlato nello specifico con Dionisi, se vi siete intrattenuti non solo per discorsi tecnici ma anche per la gestione del gruppo stesso. Il Ministro ha parlato un po' con tutti, come ho detto prima ha chiesto molto entusiasmo e molta disponibilità, poi per le richieste tecniche e tactiche è molto soggettiva la cosa, nel senso parla difensore, attaccante centrocampista, comunque parla con tutti il Mister, quindi è un ritiro in cui stiamo lavorando e stiamo mettendo dentro le prime idee di gioco che vuole il Mister. Domani la prima vincevole della stagione con una squadra di direttanti dopo appena una settimana di lavoro e con un organico il vostro ancora da completare, quindi c'è poco da aspettarsi, però tu questa partita la affronti con quali pensieri e cosa vorresti vedere? È una partita dopo una settimana di ritiro e diciamo che è una partita in cui dobbiamo cercare di mettere dentro le idee che chiede il Mister, anche se siamo insieme solo da una settimana e soprattutto credo andare oltre il limite a livello fisico, nel senso che queste partite magari servono per conoscerci ancora meglio tra compagni, per conoscere chi è arrivato ma anche per spattuto per mettere dentro un po' di benzina.